Come valuti la prestazione in questa che è la prima sconfitta interna stagionale? Il binario giusto per l'Arezzo e dopo ha controllato bene e ha meritato la vittoria. Lì si è ricostruita in quei cinque minuti. Nel primo tempo siete cresciuti con il passare dei minuti oltre al gol del pareggio, poi c'è stata anche l'espulsione. Un momento un po' nervoso, ce lo racconti un po'? L'espulsione perché l'arbitro secondo me doveva munire il settembre su una ripartenza nostra, non l'ha munito. Ma io ho solo protestato per l'ammunizione, l'espulsione mi sembra un po' esagerato. Non è che ho offeso l'arbitro, ho solo protestato, ha deciso di buttarmi fuori. Era una semplice protesta per una situazione dove noi potremmo ripartire a settembre. Ha fatto un fallo, non per la cattiverà, ma sicuramente per una ripartenza. Cosa è mancato alla tua squadra? Dopo sono partite queste dove fino all'1-1 erano equilibrate. La partita era in quel binario, dopo è mancato che dovevamo cercare di tenere un po' aperto. Dopo abbiamo preso subito il 3-1 e chiaramente una squadra come Forte con l'Arezzo diventa dura. Dopo ci è mancato un po' di forza probabilmente. Oggi ho giocato qualcuno che è stato parecchio fermo, quindi magari un po' di energia ci sono mancate anche l'ultima mezz'ora per cercare di rientrare dentro la partita. Però l'Arezzo, ripeto, dopo ha controllato bene la partita e quindi non ha mai rischiato, penso. Grazie.